A me ha colpito particolarmente il fatto che è riuscita tramite anche la storia di Pinocchio in questo caso a farci trasmettere qualcosa di comune, chiaramente a tutti quanti, essendo molto diretta è riuscita a trattare dei temi che sono difficili da percepire, da comprendere da tutti, soprattutto tramite una favola, quella di Pinocchio e questa cosa mi ha colpito molto. Probabilmente l'aspetto emotivo perché riesce a collegare la musica e i suoni e i colori, le luci e riuscire quindi a creare delle immagini solo con le parole, quindi ricreando degli aspetti che non ti saresti aspettato prima di venire a vedere lo spettacolo, perché magari ti immagini una storia lineare e un qualunque spettacolo, quando invece c'è solo una persona sul palco ma riesce a ricreare tante scene e tanti personaggi grazie al cambiamento del tono di voce o al cambiamento di effetti. Aver preso una storia così semplice sarebbe riuscita a collegarli con anche qualcosa di sacro, come ad esempio la Bibbia, che in qualche modo potrebbe all'inizio risultare magari io ero abbastanza scettica perché non mi piace il fatto di imporre un significato religioso all'interno di tutto, quando in realtà non ha fatto capire tanto questa sfumatura ma è riuscita a integrarla facendo vedere la Bibbia come testo storico e non come testo religioso.